Allievi limatori, tornitori, fampri e cucinatori, all'opera per la fabbricazione e la riparazione dei pezzi che costituiscono i telai. E' questo un aspetto dell'attività dell'Istituto Tecnico Industriale di Setificio di Coma, che attraverso i corsi per tessili acqua la completa preparazione tecnica e professionale delle maestranze addette all'industria della seta. In altri reparti ecco orditori e tesitori al lavoro. L'insegnamento teorico e pratico della chimica aumenta il numero delle nozioni tecniche dell'allievo, elevandone la cultura generale e quella specifica. A presto! 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 A presto!